buongiorno buongiorno a tutti allora iscrivetevi iscrivetevi a questo canile se non siete già iscritti iscrivetevi al canale allora io signori ebbene se sono un uomo del nord est io sono della provincia di venezia io sono di carle che sta esattamente a metà strada tra udine e verona quindi lo facciamo vedere alle lobby antivenete che anche un video su questa bellissima partita su questo derby del nord est the best in nord est arriva a 500 mi piace datemi 500 mi piace e tutti nei commenti a scrivere hashtag the best in nord est facciamo sentire l'orgoglio di queste regioni del veneto del friuli di queste squadre esiziali che sono fomentato allora signori questa sera alle 22 50 vi invito sul canale di del viola canadese che fa una bella live un bel direttore su tutto un po la giornata di campionato detto questo vi invito a vedere i video fatti in questi giorni video di ieri su tutte le partite su tutto quello che trova domani ore 21 sul mio canale live di processo il campionato il quale vi invito cosa dire di queste partite signori gottismo gottismo allo stato puro l'udinese una grande squadra che oltretutto supera in classifica in questo momento con questa vittoria che mi aspettavo signori ebbene sì lo devo dire mi aspettavo in questa giornata tutte le partite che ho commentato sostanzialmente ero mi aspettavo questi risultati mi aspettavo la sconfitta della fiorentina con l'inter mi aspettavo la vittoria della juve contro la roma mi aspettavo la vittoria del genoa contro il napoli e mi aspettavo una vittoria dell'udinese contro il contro il verona perché ho visto oltretutto una squadra che ha meritato di vincere ho visto un primo tempo nel quale a mio avviso l'udinese meritava già di chiudere in vantaggio contro il verona ho visto un secondo tempo nel quale il verona ha avuto una reazione ha provato una reazione ha bozzato una reazione ma poi l'udinese ha colpito a freddo e ha colpito anche duro diciamo paradossalmente il secondo gol sarebbe stato più meritato nel primo tempo nell'udinese ci sono due figure che mi hanno impressionato più di tutte lasciando stare anche il solito arslan che comunque ha fatto una buona partita assieme un po tutto il centrocampo io quest'oggi i meriti li do a tre figure in particolare nell'udinese deulofeu che veramente sta tornando ai suoi livelli già la gara già nella gara contro lo spezia fu decisivo perché determinò poi quel rigore col quale l'udinese vinse la partita e quest'oggi ha fatto una prestazione sontuosa cioè un giocatore veramente di impegno anche mi è piaciuto vedere come si è impegnato salta l'uomo giocate tanta 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 roba oggi è praticamente una doppietta quindi onore a lui poi è un altro giocatore che signori mi fomenta ed è veramente un baluardo una cosa incredibile il Johnny Sins del Medio Isonzo Bram Nuiting ma che difensore è Bram Nuiting ma che difensore è Bram Nuiting ma che difensore è Bram Nuiting cioè una cosa un fomento signori un fomento esiziale e poi merito anche a Luca Gotti perché vi ho detto l'udinese a volte ha dei periodi in cui perde pareggia perde va un po' affiammate l'udinese ha la fiammata negativa che è capace che ti perde due o tre gare di fila ma ha la fiammata positiva che è capace che te ne vince anche due o tre di fila questo perché perché come vi ho sempre detto cosa vuoi che ti dica questa è una signora squadra ma questa è una signora squadra ragazzi questa è una squadra che se avesse un attimo più di convinzione di crederci nei suoi mezzi potrebbe tranquillamente lottare per l'Europa questa è una squadra che pur con tutto il rispetto di Luca Gotti per cui dopo parlerò ma con un Sarri questa squadra qui ti arriva terza questa è una squadra da Champions signore questa è una squadra che voi mi ridete dietro ma è una signora squadra questa ho visto un buon Lorente che si sacrifica sebbene che queste due squadre qui paradossalmente potevano avere tutte e due bisogno dello stesso uomo a parte il discorso di Dio che ha avvocato c'ho una ferita nel cuore lo dico all'Udinese c'ho ancora una ferita nel cuore perché se voi è il posto di lasciare Dio al parco giochi del Monza ve lo compravate voi l'Udinese era nel Pangasio quest'ora era un colpo totale Dio per l'Udinese ma tutte e due queste squadre qui potevano aver bisogno dello stesso tipo di bomber che è forte del Venezia lo squalo forte del Venezia che ha segnato pure ieri stava bene a tutte e due avete visto oltretutto come vi avevo detto che Lasagna quest'oggi è stato schierato nei due trequartisti dietro la punta non ha fatto una gran partita e dicevo sia Verona che Udinese secondo me sono squadre che avrebbero avuto bisogno di quel tipo di bomber lì perché gli Oriente è uno che aiuta molto la squadra che la fa salire che fa un ottimo lavoro ma a livello di rettistica a livello di gol va un attimo verificato e nel Verona vi ripeto Lasagna io in un 3-4-2-1 a fare l'unica punta non ce lo vedo e infatti non è stato schierato lì e Kalinic purtroppo anche quest'oggi ha deluso quindi forte paradossalmente poteva essere utile a tutte queste due squadre io per l'udinese avevo avevo pontatinato più che forte che avevo lasciato al Verona avevo pontatinato Crivelli che è un giocatore del Basaxeir simile per caratteristiche di O Crivelli onore anche a Gotti che ha praticamente schierato una formazione speculare perché col 3-4-2-1 ha giocato il Verona col 3-4-2-1 ha giocato l'udinese è uno schema che mi piace che sta bene in diverse squadre nell'udinese potrebbe stare bene ma al posto di Wallace con Aslan farei giocare Macchengo ecco io ho visto Macchengo giocare contro la Fiorentina in Coppa Italia e mi è impressionato grandirei vederlo giocare un po' di più sebbene oggi vi ripeto la squadra meriti solo in comi bene Gotti, bene Gotti non solo per questa cosa dello schema speculare con sempre di difesa a 3 ma anche perché a fine primo tempo ha fatto una mossa rischiosa, azzardata perché io ho detto l'udinese ha fatto un ottimo primo tempo vedrai se nel secondo tempo non emerge il Verona e arriva la beffa per l'udinese invece il buon Luca Gotti ha avuto il coraggio di mettere dentro due punte e questa è stata una mossa decisiva perché poi nei gol la mano si è vista quindi onore a Luca Gotti, oggi la partita l'ha vinta lui e l'ha vinta una squadra veramente di grande 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 valore quindi io dico rispetto per Luca Gotti, grande allenatore ma anche rivalutiamo una squadra come l'udinese che quando è in forma ha veramente dei valori ottimali c'è una squadra che lascia un Okaka in panchina una squadra che lascia uno stesso Macchengo in panchina una squadra che fa entrare Okaka praticamente nel secondo tempo Nuitin che vi ripeto è un signor difensore, Larsen che ha fatto un'altra grande partita pure Zegelar non mi dispiace, c'è i Pereira, adesso c'è anche gli Oriente cioè non è mica una squadra signori mica tanto da signore come stai come non stai nel Verona non ho capito perché mi hai messo Barak a centrocampo e Zaccagni in mezzala se sei in emergenza io farei il contrario Zaccagni a centrocampo e Barak mezza punta questa è la cosa migliore, infatti Barak oggi ha fatto una buona partita però non è quello secondo me il suo ruolo Di Marco ha sofferto molto, ha sofferto De Lofeu tutta la partita Silvestri ha fatto un'ottima gara perché vi ripeto nel primo tempo l'udinese secondo me già meritava di essere in vantaggio spezzo una fece, spezzo una prece spezzo una prece per una cosa che dovevo dire ah sì, che mi sa che il Verona ha un po' pagato specie nell'approccio a questa partita nell'approccio parlo ha pagato un po' quei dieci minuti di vuoto che si sono visti a Roma in Roma-Verona per me ho visto una squadra che a inizio gara ha sofferto molto come se fosse ancora un po' instupidita dalla partita di Roma come se qualcosa andasse registrato come se qualcosa non fosse ancora pienamente sistemato poi vi ripeto, io non penso che sia una crisi questa è una squadra che poi si riprende che la gara dopo subito rientra in gara quindi mi aspetto un grande Verona già dalla prossima partita ma già in questa gara nel secondo tempo si è vista una squadra che è ritornata in campo con un piglio diverso e l'Udinese è stata veramente brava a subire questo tipo di non a subire il ritorno ma a viverlo tra virgolette ma a ribattere contro il suo colpo con la sua tattica col suo gioco e a portare in saccoccia la partita veramente una gran io quest'oggi faccio i complimenti a Gotti perché quest'oggi in questa vittoria c'è tanto di lui e c'è tanto di un giocatore come De Lofeu che finalmente sembra tornato a ottimi livelli e che può essere gustato dai popoli dai popoli di Carnia diciamo questo vi dico iscrivetevi tutti perché parlo di Verona perché parlo di Udinese in barba alle lobby antivenete un caro saluto e buona domenica a questa sera per il video col Bruni sul Mina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti